Vi piace Bridgerton? E allora ecco 5 serie tv in costume da dove assolutamente guardare. My Lady Jane Grey, creato da Gemma Burgess, è disponibile su Prime Video. Per chi conosce la vera storia di Jane Grey, regina d'Inghilterra che salì al trono per soli nove giorni, fa bene a dimenticarsela, perché questa serie è una rivisitazione radicale della storia reale inglese. Infatti in questo caso Jane invece di finire imprigionata e poi decapitata, riuscirà a salvarsi e non solo se stessa ma anche tutto il regno. The Great, ideato da Tony McNamara con il fanning, disponibile su Prime Video. La storia segue le avventure di Caterina la Grande, la quale arriva in Russia per sposare Pietro III. L'incontro però non sarà dei migliori, in quanto il marito non è proprio come lei se lo aspettava. A quel punto Caterina penserà una soluzione per ucciderlo, affinché lei possa regnare da sola. Rain, ideato da Lori McCarty e Stephanie Sengupta, con Adelaide Kane, disponibile su RaiPlay. Ci troviamo al cospetto di Maria Stuarda, regina di Scozia, e al suo imminente matrimonio con il delfino di Francia, Francesco. La serie ci fa conoscere la vita della regina, iniziando con il suo ingresso nella corte francese e arrivando fino al momento della sua morte, portandosi quindi dentro alleanze politiche e intrighi reali. Sissi, con la regia di Sven Bos, disponibile su Meleset Play. La serie racconta la vita dell'imperatrice d'Astria e Ungheria, Elisabetta di Baviera, anche conosciuta come Sissi. Inizia nei primi anni della sua adolescenza e poi percorre tutto l'amore che lei provò per Franz fino al loro matrimonio. La storia si ispira liberamente alla sua figura ed ha dei tocchi di modernità per farla essere molto più contemporanea. Maria Antonietta, creata da Deborah Davis, anche conosciuta come la sceneggiatrice di La Favorita di Iorgos Lantimos. La serie è disponibile su Now. Fra feste, litigi, sfarzo e incomprensioni coniugali, Maria Antonietta ci porta dentro la corte di Francia del XVIII secolo, mostrandoci, a volte anche in maniera esagerata, quella che fu la vita della sua ultima regina, prima della rivoluzione francese. La serie ha come focus principale i problemi matrimoniali che ebbero Maria Antonietta e Luigi XVI.